E sempre sulla Madison Avenue, all'altezza della 37esima strada, c'è la bellissima sede del consolato polacco. Un tempo era la residenza di Joseph Delamar, che era un commerciante che lavorava sulle navi, successivamente fece carriera prima nel settore minerario e poi divenne un importante agente di borsa negli ambienti di Wall Street, dove veniva conosciuto come l'uomo del mistero, poiché non si sapeva molto del suo passato. La realizzazione di questo edificio, commissionata dall'attitetto C.P.H. Gilbert, una specie di biglietto d'ingresso per Joseph Delamar, nell'alta società, vedete che meraviglia di edificio, tra le emilità presenti c'erano anche un grande organo, in quanto Joseph Delamar era anche un abile organista, e un ascensore che portava un parcheggio sotterraneo.